buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale buon natale oggi 25 dicembre abbiamo deciso di festeggiare il nostro natale sul monte vettore e andiamo allora abbiamo deciso di non portare i rapponi alla fine tanta neve non c'è guardate un bosco con la forma dell'italia qui c'è una piccola loce Tito Zioli 33 1958 siamo a quota 2000 abbiamo raggiunto quasi il vettoretto che si fa dal 2050 e lì si scorge il rifugio Zili Oli qua forse i ramponcini sarebbero stati utili però dai dai va bene dai ce la facciamo abbiamo incontrato un altro traverso questo è un po' più impegnativo allora rifugio Zili Oli raggiunto è un po' più impegnativo è un po' più impegnativo è un po' più impegnativo l'interno del rifugio eccolo qua bello molto bello e ben tenuto richiudo lasciamo pulito sempre preciso allora queste sono le creste del redentore bellissimo ok ammuri vuoi natale dal monte l'interno del france l'interno del france Iniziamo a riscendere, purtroppo tiravento e fa freddo. Adesso riscendiamo giù al rifugio Zilioli e mangiamo qualcosa. Andiamo. Fa freddo però. Un po' freddo, vabbè dai, è 25 dicembre, su, dai, 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 ce sta, ce sta. Siamo tornati al rifugio Zilioli. Ci fermiamo e consumiamo il nostro pranzo di Natale. Vabbè, alla fine è solo un paio di panini, però la bellezza di mangiarli qui è meraviglioso. Bellissimo, bellissimo. It's a cold night, baby, and I'm on my way to you. It's just me and you tonight and I'm all yours. Cominciamo con queste traversate, molto pericolose. Andiamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui la piana di Castelluccio. Allora, siamo quasi arrivati alla macchina. Si trova dietro questa collinetta. Com'è andato questo trekking? Com'è questo monte Vettore? Bello, bello faticoso, ma bellissimi paesaggi, bellissimi davvero. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao, ciao. Ciao.